I numeri che chiamo possono andare per esito negativo 12.02-12.03. Grazie, arrivederci. È un bilancio positivo quello tracciato dal direttore dell'area Vasta 1, Romeo Magnoni, che questa mattina ha illustrato i dati e i progetti dello screening di massa. Oggi si è concluso quello di Fano, Mondolfo, Cartoceto e Monbaroccio, ma a giorni partiranno i tamponi per altri comuni. Rispetto all'ultima tornata, che era più o meno intorno all'1%, siamo al 0,69% di positività, è un pochettino più bassa. Rispetto alla prima tornata di screening abbiamo fatto una mattinata in più per non costringere i dipendenti a riportare tutto alla sera tardi. Quindi diciamo che siamo soddisfatti dello screening, anche perché, come ho sempre detto, è la prova del 9 per quando cominceremo a fare le vaccinazioni di massa a tutta la popolazione. I dipendenti hanno lavorato con entusiasmo, ha detto Magnoni, e i cittadini hanno apprezzato lo sforzo. Sabato poi partirà lo screening per questi 12 comuni. Fino a giovedì, 21 gennaio, ci si potrà sottoporre al test dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Abbiamo cercato di aggregare i comuni, perché se no era impossibile riuscire a portare sia il personale sia il materiale nei vari comuni. Abbiamo messo che per quanto riguarda i comuni di Coglielmetauro, Mondavio, Montefelcino, Monteporzio e Terraro Vereschi hanno individuato due siti, che sono la palestra comunale di Orciano e Terraro Vereschi e il bocciodromo di Tavernelli, in località Coglielmetauro. Per quanto riguarda i comuni di Gabiciemare, Gradara, Montelabate, Tavuglia, Vallefoglia, Petriano, Monte Calvo in Foglia, hanno individuato invece il palazzetto dello Sport nel comune di Gradara e il Palavitri a Montecchio di Vallefoglia. Ancora da stabilire invece i presidi per i comuni di Fossombrone, Pergola, Caglie e per le zone del Monte Feltro. State valutando anche di utilizzare questi stessi siti per le future vaccinazioni. Si sa già una data? Possiamo dare un'indicazione? Allora, ancora la data in merito non l'abbiamo, perché prima dobbiamo finire di vaccinare tutti i sanitari, tutti i dipendenti del servizio sanitario, tutti i convenzionati, ma soprattutto i pazienti delle case di riposo e dell'RSA. Quindi in base a quello ci arriveranno anche i vaccini, perché i vaccini sono strettamente collegati al numero di vaccinazioni che riusciamo a fare. Ma secondo me in un paio di mesi qualcosa in più potremmo sicuramente averla. Abbiamo già vaccinato quasi mille persone, ci spiega il direttore, e la prossima settimana potremmo partire con le case di riposo. Tengo a ringraziare, e ci tengo personalmente, tutto il personale sanitario che ha dato la disponibilità al di fuori dell'orario a fare questo tipo di attività. Perché? Perché l'hanno fatto in maniera importante e quindi siamo riusciti a dare risposte adeguate a quello che erano gli impegni regionali sullo screening. Per quanto riguarda la vaccinazione, chiaramente io sono un medico igienista, per me la vaccinazione è di fondamentale importanza, quindi però siamo in uno stato di diritto in cui la vaccinazione è facoltativa. L'importante è che chi non vuole fare la vaccinazione non condizioni gli altri a non fare la vaccinazione. Mi sembra che il messaggio che tutti insieme dobbiamo dare è questo qua.